Da Rattenuti nasce 40 anni fa con la voglia di fare di mio padre che fortunatamente era permesso a me e mia sorella siamo sempre pronti all'innovazione però non dimenticandoci il passato perché il passato è importante, perché quello che ha fatto in questi anni costruito tassello dopo tassello è fondamentale e ci fa mettere sempre più amore nel nostro lavoro appunto noi curiamo molto i dettagli partiamo dalla filiera compriamo il cucina un giorno, lo alleviamo dopo 4 mesi diventa pollastra la pollastra viene trasferita nel capannone ovaiolo viene alimentato con i nostri mangimi dopodiché lo confezioniamo, lo selezioniamo, lo imballiamo e va direttamente sulle tavole del consumatore finale perché curiamo pure noi le consegne e la logistica per cui il nostro punto di forza è la cura dei dettagli e la perfezione in ogni dettaglio quanti sono i siti produttivi e soprattutto le diverse linee e i progetti per il futuro? i siti produttivi sono tre a Misilmeri, in Contrata Cotta Nera dove abbiamo i capannoni in batteria a Vicari, in Contrata Santa Domenica dove abbiamo l'allevamento a terra e a Marineo dove abbiamo l'allevamento all'aperto appunto noi da una quindicina d'anni ci siamo appunto basati più sull'alternativo sugli allevamenti alternativi l'allevamento a terra è il nostro punto di forza perché abbiamo quasi 250.000 galline allevate a terra dove appunto ci poniamo le basi per costruire dei capannoni ad alta sostenibilità infatti a Campo Felice di Fitalia abbiamo nei tetti dei capannoni abbiamo montato degli impianti fotovoltaici perché appunto è importante con l'energia rinnovabile creare un ambiente che sia tutto totalmente sostenibile il nostro punto di forza è avere due centri di imballaggio perché con due centri di imballaggio riusciamo a selezionare, imballare e mettere la tracciabilità adeguata a tutte le uova per cui questo ci pone in una posizione molto alta verso la grande distribuzione perché appunto diamo dei criteri di sicurezza che sono fondamentali quando appunto si mangia quando appunto dobbiamo mangiare bene dobbiamo mangiare tranquilli perché dobbiamo capire da dove viene il prodotto ed è un prodotto poiché a chilometro zero vicino in Sicilia fatto bene allevato con appunto con mangimi naturali cercando di stare attenti un po' a tutto per cui è fondamentale che noi tracciamo le uova e sappiamo dove vengono prodotte quando vengono prodotte e come vengono prodotte questo appunto riusciamo a mettere 11 caratteri sull'uovo lo stampigliamo dove c'è scritto il codice d'allevamento la provenienza dell'allevamento è la data di deposizione fondamentale per avere una sicurezza sulle nostre tavole è importante mangiare bene ed è importante mangiare sicuro è una cosa stessa è una cosa stessa Grazie.